I vostri padri o i vostri nonni non si sarebbero lamentati più di tanto per quattro spintoni che hanno ricevuto da parte della Polizia, che era stata comunque aggredita. Sarà la magistratura a decidere se si sono comportati bene o male i poliziotti? Sta di fatto che l'aggressione appisa da parte degli studenti medi, minorenni o non minorenni, che sono normalmente le avanguardie di quelle che arrivano come facevano i vostri nonni, con le spranghe in mano, sono le avanguardie... cacciate, eh? Che sono le avanguardie... Vabbè, chiudo!